auguri forum non smettere mai di essere luogo di stimolo e di riferimento di una discussione accesa aperta ed informata non smettere di essere pungolo per la politica e per la ricerca a porsi sempre nuovi e più sfidanti traguardi in nome di quell'idea di giustizia come ci insegna marcia sen ma soprattutto non smettere mai di ergeti a streno difensore e a ricordare sempre l'importanza e la forza di quell'articolo 3 della costituzione che dovrebbe sempre guidare ogni azione civica e politica